Da un lato l'esercito italiano, dall'altro una folta rappresentativa composta da giornalisti sportivi, vecchie glorie del mondo del calcio e gli amministratori comunali del Vesuviano. Con una partita e oltre mille studenti sugli spalti dello stadio di Fratta Maggiore, si è voluto dare un calcio al pallone dell'illegalità, parafrasando il nome della manifestazione, aperta dall'alzabandiere e dalla fanfare dei belzaglieri. A dare il calcio d'inizio poi, insieme agli organizzatori, ci ha pensato Diego Armando Maradona Junior, che ha accettato con entusiasmo di passare una mattinata in compagnia di giovani e tanti artisti, tra questi Ivan Granatino, Vincenzo Messina e Gabriele Bleir. Tutti hanno accettato di buon grado l'invito dell'amministrazione frattese in una chermessa a costo zero, con la partecipazione volontaria di tutti i presenti. Grande la soddisfazione del primo cittadino di Fratta Maggiore, Francesco Russo, ascoltiamo. Una giornata ovviamente rivolta alla legalità e la fine di un percorso ovviamente che abbiamo iniziato già da metà febbraio, cui l'amministrazione comunale ovviamente insomma volge un ragionamento importante ovviamente alla legalità e oggi ringrazio l'esercito italiano, il colonnello del Monaco, ovviamente l'Unione Sportiva Italiana, assieme all'amministrazione comunale per dedicare questa giornata ovviamente alla legalità, una giornata di sport, come dicevo, all'insegno della legalità. Questo l'invito del colonnello Antonio del Monaco. È meraviglioso vedere tanti giovani intorno a questa manifestazione. Diamo realmente un calcio al pallone delle legalità, diamoli in maniera forte perché dobbiamo far ritornare i veri valori, il valore essenziale dell'uomo. Allontaniamoci da questa realtà della devianza che non ci appartiene e rientriamo a dare il valore dell'appartenenza, il valore dell'identificazione e soprattutto di essere cittadini attivi per questa realtà in cambiamento, che sia un cambiamento vero all'insegna della legalità.